Il cielo è di tutti e si arricchisce quando viene colorato dalle differenze. A Bifiarte è stata inaugurata una mostra che celebra le sensibilità e le emozioni di circa 60 studenti del liceo artistico che hanno trasformato in fotografia e quindi in arte la profonda riflessione affrontata sul tema della discriminazione in tutte le sue forme. Differenze raccontate dalla sensibilità di questi ragazzi e soprattutto sono arrivati a far vedere quello che realmente non riusciamo ancora oggi a far vedere a tutto il mondo che c'è comunque questo problema di discriminazione in tutte le sue facettature. Tra le foto emergono igni alla pace, alla libertà sessuale e condanne alla violenza di genere e ad ogni discriminazione. Questo progetto è stato il susseguirsi di alcune lezioni di carattere artistico e quindi loro hanno potuto associarsi alla propria idea di discriminazione secondo quella che era la loro sensibilità e affrontare queste tematiche all'interno delle scuole è ovviamente molto importante perché sono anche delle tematiche che apparentemente non sentiamo come lontane ma loro invece lo ritengono come vicine proprio al loro quotidiano. Quindi le hanno tirate fuori attraverso la fotografia e sono diverse le discriminazioni raccontate in questa mostra. Sì, questa è una cosa molto bella perché proprio all'inizio del progetto il nostro obiettivo era quello di non prendere una sorta di recinto ma di dare massima libertà a loro di potersi in un certo senso accostare a questa tematica. Metafore artistiche nate attraverso lo sguardo di giovani ragazzi capaci di andare oltre e di capire per l'appunto la ricchezza delle differenze.